Eccola la nuova campagna abbonamenti del Crotone Calcio con questo riquadro Together insieme per ritornare grandi, così come ha detto il presidente Gianni Brenna in conferenza stampa, ma anche si è giocato sulle parole con una doppia finalità To get here, cioè riprendiamola, riprendiamo la squadra, riprendiamo la città, riprendiamo l'entusiasmo riprendiamo anche la Serie B. Ecco quello che ha detto Gianni Brenna subito dopo la conferenza stampa presentando la campagna abbonamenti. Qui abbiamo dovuto dare questo messaggio, vogliamo riportare dopo tre anni la gente allo stadio non l'abbiamo fatto per un aspetto economico, soprattutto per la società, anzi tutt'altro vogliamo che lo stadio si uscita, ritorni quello di prima e che sia un volano per i calciatori affinché possano dare quella spinta a questo campionato che a mio avviso è bello tosto. Un occhio di riguardo verso gli over, gli under, soprattutto le famiglie. Sì, abbiamo puntato anche su quello, è una città che vive una crisi ormai da tanti anni, purtroppo le famiglie spesso stentano, abbiamo voluto dare questo segnale, con pochissimi spiccioli potere venire ad assistere a una partita di calcio della squadra della propria città che in tanti amano e abbiamo avuto questa possibilità.